L'impasto di pizza, ora si stende, si fa rettangolato per fare la treccia ed avere la forma della treccia. L'impasto di pizza vi è evitato un paio d'ora. Potete piacere come volete, come desiderate, broccoli e salsiccia, anche a fare con i miei dolci, con nutella. Scegliamo un'ultima costella. Impasto tutto in mezzo. Ci mettete anche un po' di prosciutto. Anche del formaggio, anche mozzarella, quello che sempre desiderate voi. Che attacca bene. Fate delle striscioline. Che poi si dovrà chiudere la treccia. Lo stesso procedimento, l'altra parte, che mi giro. Ecco qua. Dopo, rinchiusa, si deve spennellare con il latte. Adesso si potrà anche chiudere. Dopo, la dovete anche farli evitare, prima di cuocerla a 180 gradi, ad occhio. Una mezz'ora. Una mezz'oretta. Controllatela bene. Poi la posizionate sulla carta da forno. è in forma. Bisogna anche un po' di evitare. L'ho detto già prima. e proprio... Grazie a tutti.